Ah, dovevo fare? Sì, dai. Questo libro mi è piaciuto perché è molto coinvolgente. Non ti vuole fare un giro in macchina? No, no. C'è una cosa che mi piace tanto. Mi piace molto. Questo libro mi è piaciuto per i continui cambiamenti di fiamma, andati avanti per tutta la durata del libro. Poi mi è piaciuto perché la professoressa ce l'ha letto in modo tale che noi potessimo seguire, allo stesso tempo prendere appunti e poi si rileggeva tutto insieme. Lo sai che c'è un bel ragazzo che abita qui accanto? E chi è? Lorenzo, te ne ho parlato, no? Eccolo. Ciao ragazza, da chi è? È Fiamma, la mia migliore amica. Ma abiti qui? No, sono qua in vacanza con Berta. Ah, allora una volta bisogna fare un'uscita insieme. Sì, va bene. Questo libro mi è piaciuto perché ci sono degli intredi che fanno riflettere a quello che può succedere in vita. Perché non siamo andati con lui? Perché non c'ho voglia. Devo andare in bagno. Ok. Grazie a tutti